Religioni e diritti umani. Si è parlato di questo nella Biblioteca Comunale di Trani nel corso di un incontro organizzato dal Club per l'UNESCO di Trani e l'Università di Bari improntato sulla dignità dell'uomo. Sentiamo. Un momento di riflessione sul cammino interreligioso che è in sé un unico fine comune, la dignità dell'uomo. Se ne è parlato a Trani nel corso dell'incontro che si è svolto nella Biblioteca Comunale Giovanni Bovio organizzato dall'Università di Bari e il Club per l'UNESCO di Trani. Questo dialogo interreligioso deve servire ad illuminare le nostre menti sul rispetto del prossimo e sulla possibilità proprio di convivere con il principio della tolleranza. A partire dal Concilio Vaticano II, frontiera fondamentale del dialogo tra le religioni, si è cercato di approfondire il delicato tema dei rapporti tra professioni di fede differenti. La presenza di tre esponenti, di tre religioni oggi significa che c'è la volontà di riprendere a dialogare ovviamente su posizioni in realtà diverse. Crediamo fermamente in questo confronto continuo perché attraverso il dialogo e il confronto si riescono a superare le diffidenze per l'altro e quindi si costruisce sicuramente un futuro migliore. In un tempo segnato dal dramma dei conflitti internazionali, il rispetto dei diritti umani assume un valore sempre più rilevante, il cui significato si esprime in modo differente nel pensiero occidentale rispetto alla legge ebraica. Nella legge ebraica non esistono diritti o meglio esistono prevalentemente doveri, i diritti nascono dai doveri, è una cosa un po' complessa rispetto al pensiero occidentale. Per esempio noi non parliamo mai, fa un esempio pratico di diritto allo studio, che è una delle rivendicazioni, ma di dovere allo studio. Cioè i genitori hanno il dovere di far studiare figli e i figli hanno il dovere di studiare. L'armonizzazione delle diverse culture e religioni si traduce anche attraverso la capacità di unire tre elementi fondamentali, la fede, la compassione e la dignità umana. Il presupposto fondamentale è il partire dal riconoscimento della grandezza della creazione di Dio e la grandezza della missione che Dio ha dato all'uomo nel rispetto della sagralità della vita. La sagralità della vita impone anche il rispetto dell'alterità e dell'altro, quindi l'attenzione e la compassione, potremmo definirla una compassione, fino poi al rispetto fondamentale di quello che è la dignità dell'uomo. Gli uomini vanno rispettati in quanto creature di Dio, qualsiasi sia la loro appartenenza religiosa, senza alcun tipo di barriere, di distinzione, che possa creare minoranze o emarginazioni.